andiamo ok adesso no dall'altra parte scusa di là siamo già andati ma stiamo andando seguendo una ma ma giusto e come facciamo a capire dove con la mappa ti ci porta la mappa mi sembra che al villaggio fosse più più grande più grande spostato no mi sono spostato anche perché non sarebbe niente aspetta tanto in ogni caso da qualche parte c'è da andare perché se non non posso avere fps fissi è serio che non riesce a fare 60 fps su minecraft no no ma che non sono fissi e mi trigger la cosa perché se li metto a 60 mi va a 30 invece se li metti limitati mi fa a 980 è diventato un error monitor no salio cosa ma c'è la condivisione nera ma 480 a 15 fps ma sei serio che niente non la carica ok c'è la mia cosa ti è ce l'ho proprio adesso susgino c'è ancora cazzo è proprio qua lo sai dove è qua eccolo dove davanti a te ah nel buco ma non c'è più no chi l'ha ucciso nessuno nessuno no non è vero aspetta lo so io chi colui che conosciamo molto bene anche detto sì oh no sai perché perché ieri era andato da questa parte ha detto perché qua c'è un pillager intrappolato no se serio dobbiamo far la tomba del sasso dobbiamo far la tomba del susgino no ne andiamo a cercarla però ci dobbiamo far la tomba del susgino si dell'uno dello zero ma se ti dicessi che sono sotto serve non mi fa così è una merda no come a te faceva così su vabbè raspberry è una perché mi ciro da solo la testa il gioco è normale ma così c'ho la retro adesso si comunque sono sul tuo server perché tipo su quello di m vado al 400 dimmi da che parte perché per ora non si muove di un cazzo dovresti andare in un oceano vabbè ci abbiamo un'ora e un quarto no non faccio così tanto e vai sarà impossibile verso l'oceano quindi di qua si è mosso un pochino mosso in che senso parla più forte che basso tu a sinistra si sta muovendo buono adesso dobbiamo scegliere se andare a destra o a sinistra giusto arriviamo dritti e poi no dobbiamo sapere se andare avanti di qua o indietro perché se vai di qua si sposta allora arriviamo a centrarlo nella parte dell'y dell'asse y vabbè se fosse un grafico sarebbe nell'asse x no allora x se proprio partner col server in che senso siamo più o meno giusti no ma oh guarda segui la luce c'è anche un'altra roba che fa luce che però esplode oh no caning oh ma allora ma cano che stai facendo aspetta che qui la grafica è integrata da notte mi potresti difendere ma come fai a farmi l'fps con la grafica integrata che la fa è ks genio non le faccio manco io smai come fai non fa a parte che è vero il tuo è normale non l'ho mai provato effettivamente la grafica integrata ma il mio è il mio è ms più infatti c'ho non a caso c'ho 19 giga di ram tridente dammi il tridente vorrei verlo io non uccidere ah oh ce l'ho dai lo stavo uccidendo io per favore mmm dai posso regalarle qualcos'altro better tridente no dai lo stavo uccidendo io ma io l'ho ucciso dai se mi killi gli zombie aia dammi e un attimo rompi i coglioni vattelo a prendere ma che ah l'abbiamo centrato aspetta e ora da che parte andiamo e ora ce l'ho sapere se andare di lì andiamo di lì no perché non lo posso raccogliere forse lo posso raccogliere io ah non posso raccogliere solo io no dai dammelo ah ma lo lascio qua ah se mi uccidi non lo prendo più ma perché devi dire rompere prendi le domande ma cosa vuoi da me il mio tridente aia infame vedi come corre adesso ti aiuto a correre andiamo dai va bene tutto ma io ho letteralmente tirato le icepikes sulle icepikes c'è una probabilità che sia qui oh l'oceano l'abbiamo trovato quindi è diventato di quattro adesso vai 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 dobbiamo spostarci un po' di là mi sa vabbè aspetta intanto becchiamo vediamo se sasso qua lei avrà fortuna troverà un tipo col tridente e lo prenderà lei l'aveva già preso oggi il tridente però era morto che cosa? niente tommy dove devo andare? no eh devo fare il giro bro ah no aspetta scendi barca su ghiaccio uguale a better o no? frena vai a destra adesso non c'è spazio qua di qua o no? dai vieni di qua vabbè si scavalca possiamo prendere il bucket ice eh c'ho la silta cio non so cosa dove si va? quanti guardian ci sono nel coso? tre due due eh lo so ma ti beccato aspetta eravamo a 2.76 vicini all'affiliato ma niente eh no vai a sinistra con tal di qua villaggio villaggio potremmo beccarci entrambe le parti sbagliate eh invece ci siamo beccati entrambe le giuste eh si questo è un mob molto stronzo ma che dà molto xp no orsi ha dato il tonno l'orso si era mangiato il tonno o il tonno si era mangiato l'orso molto basso l'orso si gatto è un gatto è andertarlo porco ho coltifo lo faccio il sogno buongiorno dai bro aiuto che piccola gatto perché tu hai ucciso il mio cane tante volte si ce l'avevi andiamo eh tu avevi 4 gatti e io ne ci si 5 eh di qua c'è la fila per essere ammazzato insomma tonno viene c'è sasso sinistra e cristo quanti erongoli ci sono andiamo bene stasera dove stai andando di qua bro no di qua perché se vai di là mi cambia di qua è giusto vabbè ma passiamo di qua ma no di qua è giusto di là lo fai andare più grosso eh infatti santa misera sta andando dalla parte sbagliata siamo venuti da lì imbecille no siamo venuti di là no dagli icepikes siamo venuti dagli icepikes ma ce la fai dall'altra parte da lì siamo arrivati da lì ok è diventato di 9 ora prima era di 4 ma mi prendi per il culo se siamo arrivati da lì come cazzo fa ad ingrandirsi lì si rimpicciolisce però vabbè ma vuoi dir di là eh sì ci sta eh allora non sei stupido e devo un attimo processare tutto eh loading libraries non funziona più eh aspetta perché ora vieni imbecille dai dai poi non dicevi che usavi 384 frecce mi sa che ne uso no mister bigs sticks oh non si vuole far prendere questo mio zucca allora cos'è magellano i maiali a casa tua eh non lo so ciao oh preso no no oh sai che ci muoio io no ha trovato solo fuoco te l'ho aspetta al minimo non mi ne tirare lui tira le bomba un altro villaggio si si sta iniziando a cosare la mappa guarda oh vedi che avevo ragione e vabbè ma mi sono reso solo quanto d'oro picchiamo i bambini no oh chi li ama i bambini mi sa cringhe ma mi ha fatto ma non mi ha fatto niente sturato possiamo andare tieni ti regalo oltre di ferro no no vai tutto tritto bro no sei proprio mister beast cioè idiota aspetta a chi hai detto idiota ah ma il tridente e la spada fanno lo stesso danno dovrei se trovo un altro tridente sicuramente aspetta mia no si trova un altro tridente è mio eh beh dipende io t'ho trovato questo tutto io me lo prendo no allora io ho chilato questo ti ho dato il tridente quindi se kill il prossimo te l'hai finito eh ma io l'ho chilato comunque dividiamole le cose io potevo non dartelo il tridente me li potevo ucciderti e io potevo lasciarle il tridente e non riprenderlo più quelli poi sono cazzi tuoi eh e le spuna insomma io sapevo le coordinate dovevo prenderlo quando volevo vieni da me vieni qua tu no vieni tu Cristo vieni tu non è difficile è appunto per tre nuotate ah di qua aspettati sparo la fe di qua di qua dall'altra parte destra ma destra non funziona destra ma io so dove andare la vedo la tua mappa di merda c'è una torre dei pillici ma stai sbagliando infatti meno male che vedi la mappa vabbè qui sotto che senore è il coso i pesci che ci trastano le palle no aspetta ma tu hai portato del latte no una porta magari facciamola eh io non ce l'ho oh minchia sti stronzi di pesci pesce di merda oh e uno è andato me ne fai killare uno per favore eh se non mi da mi aiuti si sto morendo da sti stronzi sai ma mettiti un'armatura in diamante giusto beh oh no vaffa muc e ora com'è la uccidia cioè ora c'è da aspettare quattro minuti per prenderle spugne era meglio se la uccidevo io no non posso più riaprire il coso qua e no vado a cercare delle mucche aspettami lì aiuto ehi ma c'è uno shipwreck faccio un salto là ma è l'armatura distrutta si lo so devo prima finirla questa ok di qua c'è roba forse trovo dai dai mi tocca parkour intanto farlo oh vai ti esterminano un pochino potremmo fare la farm di guardian ci penso proprio no troppo un altro villaggio devo killare questo oh non mi posso avvicinare oh suca sasso aiuto l'hai vista come l'ho clacciata no dai caldo no caldo pig si però lo pesce ma ha rotto il cazzo madonna già hai mining fatighe poi prova a rompere anche con l'ascia vedi quanto ci metti è l'unica che c'è coso ma non li rompere con l'ascia c'è un ottico piccone fottuto mister b6 no dai vai giù e vai a cercare il guardiano adesso come lo cerco e boh ehi tre guarda ma dove entro c'è dove ci sono le lampade ho fatto io un buco per entrare e poi c'è la porta e il coso c'è la porta e il coso lì sì ma non c'è un buco qua sì c'è per forza ah lì in fondo no non c'è buco come no e allora dove sono entrato da qualche parte boh cerco dai vieni ad aiutarmi sei tolto mining fatighe o no magari non ci sono mucche a questo punto per 49 secondi ci conviene fare tutto normale poi vabbè è normale in realtà le persone normali si portano un sì dai dove sei scusa è andato molto lontano ma apri la mappa no eh a me non funziona ecco muoviti a cercare il boss corri come faccio eh vabbè me l'ha ridato subito no ah ma lì sotto ma dirlo prima cazzo dov'è dov'è che sei sono un po' sotto ma dove ah lì dove è la porta eh la vedi non è che ti posso dare indicazioni non c'è qua la porta per respirare eccola non c'è la porta aspetta perché l'ho ucciso ne faccio una io ho una bolla vabbè vengo con la porta allora vai giù ti guido io non c'è più il tipo tipo quale allora destra qui il boss ma no ma dovevo ucciderlo io destra no dietro 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 idiota ah ma c'ho respiration 2 quindi mi dura di più me l'ha tolta bro dove sei ti metto un'altra porta grazie aspetta che sono vivo forse ahia aiutami eh ma un attimo c'ho da riprendere madonna lo stufato di coniglio ahia pesce di merda eh bo aspetta un po' ma non ce n'è di boss non c'è un altro boss volevo killarlo eh no ma tanto non faccio vedi che sei stronzo mi rubi il tridente mi killi i boss non posso far niente ma non l'ha fatta capisci che stavo morendo e dovevo dove ci volevo entrare per forza no ormai c'ero se ti ridai se ci ridai la mining fatiga era la figlia vabbè dai ma ce ne ha miliardi questi tempi vabbè perché mangi quelle e non mangi roba ecco che so è hunger 2 hunger 1 andiamo eeeh di qua ci sono le spugne vai a cercare le spugne non riesco a muovermi aiuto aspetta ma mending quasi quasi sai dove lo metto nel tridente ah ma ce n'ho tanti io di mending non serve che non farci in modo vabbè dai lo metto nel tridente che è quello più oh ma sti fish aspetta eh vai mi prendo aria vai a mi preparare niente ma io ce l'ho dappstrider oh minchia sono un missile adesso dove c'avevi dappstrider sui piedi magari e perché non ce l'avevi di cose eh ma perché non te li hai rimessi perché non ci ho pensato perché sei ma sei un givnio che un givnio questi ormai non li posso più usare perché sono pronti finito mining fatigue eh io ce l'ho ancora appena un minuto e trenta ma io l'ho ucciso appena sono rientrato mi ha dato mining fatigue ma ti pare ma ti pare ah ce n'è un terzo ma come ce n'è un terzo vedi che avevo ragione erano tre è vero sono tre eh se lo trovi fammelo killa va si vieni con me che anche io ho bisogno delle porte non so dove tu sia dove sei ah ho capito dove sei aspetta arrivo aspetta ho sentito aspetta di qua non sto capendo ho trovato io no aspetta so dove sei ho capito ma qui c'è l'entrata quindi andiamo dall'altra parte quindi ce n'è un terzo ce n'è un terzo good luck mi ha rotto l'elmo e non c'è più respiration non ce l'ho mai avuto era di ferro l'elmo bravo dove sei no è di 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 a di 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 oh ti ho sentito io sono sotto io come sotto e questo è quando la rompo io oh ti sento dovresti essere a no porta mi serve una porta anche a me devi aprire sotto e come che ho minding fatigue per 80 anni dov'è che hai chiuso tutto ho trovato la stanza dell'oro 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 sì la stanza con l'oro Ah Allora so dove stai Aiuto Chiudi lo scudo O chiudi la porta Eh già chiuso Ma non funziona lo scudo Se ti hanno già agganciato no Dov'è il terzo boss Sarai qua no Ah te sei mai salito da quando sei entrato no Sì un po' di volte Che cazzo è sto pesce Se avessi dirmi se Ecco sono sotto il coso Dove? Eh sono all'entrata Io come ci sono arrivato qua che non mi ricordo Cazzo Ho capito dove sono Bravo perché io no Non ho capito come uscirne Porta mi serve una porta mi serve una porta Ah perché non ti puoi Puoi muovere incerto Tieni ciao Oddio ti sto per colpire Oh ma ancora eh No c'è nel senso Un altro sopra Vorrei tanto Dov'è il boss È qui dentro È qui dentro L'ho visto L'ho visto È qui dentro È qui sotto Ho capito dov'è Ho capito dov'è Basta solo che prendiamo aria Dobbiamo solo spaccarle sotto Ce l'hai 5 di sabbia C'è 6 di sabbia E 4 di gunpowder No No Ehi ma basta sti tipi Oh io ho capito dov'è Io vorrei sapere Sì Non si può Mi scade mining fatigue dimmi dov'è Fammi vedere dov'è Sotto proprio qua dove sto guardando io Sotto questi blocchi qua Zuluri Eh te l'ho detto Però te l'hai ridato per minor tempo È vero? No Potrei scavare via Non ci metto tantissimo Solo 8 minuti Dove sei? A scavare qui giù Viene ad aiuto Ma dove? Eh buttati giù Vai Entra e vai a sinistra Sinistra Oh scusa Piccolo spazietto Eh un attimo E fammi uscire Grazie Vai spichiamo il ghiaccio Chi è? Rotto Te vedi se riesci ad accederci scavando Io vado a cercare un'altra Devo rompere qua Pian piano ci si fa Eh pian piano Se mi tieni lontani pesci Ho scavato il blocco per entrare No Un altro Ok Ma vero che ti glitchi nei blocchi In sta merda di cosa Ah eccolo No Ah Sei serio? Era qui? Padre mi Osnor Osnor Padre mi Dashtap Sei proprio Adesso andiamo via Basta Finito No le spugnie E dove sono? Eeeh Vabbè tra un minuto Le prendiamo Giusto Vado a prendere da mangiare io Ho fame Ma che cosa dai Wondering Trader di speciale che uno potrebbe non avere Il pozzo Eeeh I coralli Eeeh 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 Un po' di cose Tra cui il Nautilus che è utilissimo E la Vabbè dai un po' di robe Allora il Weaponsmith Da asce Eeeh Spada Il toolsmith da Spada Ma perché Tutte e due danno l'ascia? Ah perché uno ti dà l'ascia con sharpness E l'altro lascia con Eeeh Il toolsmith Quanto ti manca a te? Poco 16 secondi Vai Io Io ho un minuto invece Dove? Eeeh Sopra A te Se ce ne entri non lo so Beh proviamo Minchia ho La velocità della luce scavo Eeeh Basta Sparisci dalla mia vista Vizio Sparisci Spari Ecco è sparito Ah? Dove sei? Non ci sono stanze con Eccola Dove? Viene ad aiutare All'entra Entri Ti aiuto io eh Entra Ti sento Poi sopra No dietro All'entrata vai No Dio porno Ah qua addirittura Ho creato una camera d'aria Dove? Su? Poi? Poi su ancora Ah su ancora Ho trovato Oh buono Aspetta Fai una zappa Ah Non c'è niente Bene così allora Che ti serve per fare una zappa? Per scavare più veloce Eh ma hai la legna Ma ti servono i stick Cosa ti serve? Un gazz Lascia perdere Ok Quante ne raccolte? Con looting 3 12 Vabbè intanto A parte che non so cosa ci faccio Tu con le spugne Perché non l'hai mai usata Aspetta Vieni con me Vorrei tornare a casa No bisogna prendere l'oro Aspettami fuori Dai No ho capito dove Cosa? Arriva L'oro is Qua Dove? Qua Porta Ma non c'è Ma penso di dove sbagliare Però ho trovato dove erano le spugne Chiaro perché l'oro è di qua in teoria Trovato Prendi i blocchi e andiamo Poi ti do Robo Ma si esco così Non me ne frega un cazzo Buco Eh? 3 24 Cosa? No cosa dico Sì la metà di 48 e 24 E quindi cosa c'entra? No ma 12 più 24 fa 36 imbecille 36 36 diviso 2 18 Ciccio Però aspetta Non mi torna per il fatto che ce l'ho Vabbè Andiamo Andiamo Dai le mie spugne Stronzo Ho questo Dammi le tue spugne Aspetta Tieni una spugna No dammi le spugne tutte No Dammi ne 18 Aspetta Me ne devi dare 6 Non è difficile Vabbè Non ho più il cursore io L'hanno tolto da Windows Aiutami Mi hai buggato la barca Aiuto Aiuto Vai a prendere le spugne Che sono cadute Oh Via ti blocca Ehi vuoi vedere una magia Guarda Guarda No aspetta Hai chiuso lì Devo Devo Riavere il cursore Aspetta Così va bene Ma non hai metà busto A noi che ce ne fanno A che serve avere il corpo Quando hai questo È il bello che poi Sott'acqua si vedono le gambe Se tiro su no Tartarà 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 Barca 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 a vapore Oh no Vai viva Ci vediamo Sfigati Torna a casa E si conclude Hai distrutto il tuo cazzo di arco Ti sei preso Bip Bip No Sei un defice Blup Blup No vabbè No vabbè Monti Ah ma non ho blocchi da usare Male Monti ma aspetta Ah si scusa Matti Siamo molto impegnati a fare robe Allora Lava Quella con le canzoni Ma è questa la playlist Solo che ci ho aggiunto le mie Ci ho aggiunto alcune robe in più Quelle di Amazon prima Buon passare No Mario Kart Perché Che bello Yahoo Ah nata Non me le tirare perché cambio armatura Cambio armatura Quindi adesso mi sciotti Ok Minchia oh Proiettili incendiari Guarda 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 I miei proiettili incendiari Hai visto come incendia C'è anche un portale Scommetti che qui Dicevo scommetti che qui Dove siamo arrivati a prima Probabile No quella pillager outpost Era più basso Sì E' alzato Si è elevato a potenza Intanto Quelle frecce incendiarie Vero Incendio Io se vuoi Sì Io no Voglio venire in cielo Le bacche Oh Smeraldo Buono Io Aia Ringrazia che non c'è il fuoco Io non ho frecce Mi si è fermata la cia Ok Queste sono quelle Sì Ehi ma c'è la lei Ci ho aggiunto la musica Sì le ho aggiunte Sono praticamente tipo una ventina in più Ma non c'è la lei Sì c'è la lei E siamo in 1.19 no? Se non sbaglio Non era in 1.19 Sai che non c'ho il dubbio Mi aspetti un attimo qui Un secondo No dovrebbe esserci Ma non in tutti i villager outpost Lo so ma aspetta Perché me ne sono reso conto adesso Che non Sì ho capito Ma me ne sono reso conto adesso Che non siamo in 1.18 Ma che proprio è uscito là Oh villaggio No Ma Non cerchi alla C'è la la Ma che è schifo Mi fa abbastanza schifo Sto robo Quindi Sparisci Bello questo villaggio Sta per migliorare Sappilo Resta villaggio Ti faccio vedere una magia No No aspetta dai C'è la taiga Ecco dove l'hiamo trovata Sì Ma io non ho il waypoint Devi aspettare No È un server No Non è Aternas È il server di feather client Stato sul mio computer Sul portatile Posso sapere dove sei Perché se no non potremmo giocare con 32 chunk Oh feather falling 2 che mi salva la vita Sono nella taiga ti posso dire Eh Io ho fatto partire Praticamente qua Non è che mi devi cercare in Cina Dai Ma dammi le coordinate Muoviti Novecent Mille Tremila Arrivo Aspettami lì Ma ce l'ho lasciato che Dovresti arrivare dall'int Come due mila Non è possibile che sia Mille Tremila Mille Tremila Stai andando indietro Sei proprio Ce la fai No Hai detto che è un server Che ho stato Sì è stato con il feather client Che è Ah Cioè tu Ma tu eri già andato verso caso Sei un imbecil No aspetta A caso dove cazzo è Sì Posso spararti Cioè ti potevo sparare Mentre eri sul pillano E io ti robavo l'achievement del No Del no Sì esatto No la achievement Che bella che Mi sono buttato Della mega montagna Con feather Falling Due Ogni tanto Tira la gatina E la scheda Aspetta Ma anche a me Ogni tanto Vedrò No Intendo in rendering Eh Quello che ti ho appena detto L'altra scheda Come l'altra scheda Quella che sta a registrare No A me invece Da problemi Con il Forse senza shaders Si fix Fixed Fixed Perché era troppo pesante Il carico Deveva registrare Mandare in live Tutte le robe Con le shader A 32 C'è ancora un po' tanto E vabbè Ma per la 3090 No la 3080 E vabbè Poi è quella che sta anche a 87 Minchia 87 gradi Figa Prega perché A quanto è l'evento 50 No le porto al 75% Ma è 48 Con il 10% Ah anche la Meglio se le metto al 100% Dai No dai Perché Che sono Ma è come scendere i gradi Guarda 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 Luce C'è la 3080 E' il processore che fanno Competitor Per chi sta più sotto I gradi Sono praticamente uguali Ah eccoci Sembra che tipo Deve esplodere Con le ventole al massimo Ma in verità Sono soltanto rumori Col portatile Perché col fisso Ora mi stai Sì Allora Col portatile C'è il server E mi funge Anche da terzo monitor Se voglio Mentre il fisso Fa tutto il resto Attento Correre Ecco ma è sceso Già di 10 12 gradi I messageri Durante la seconda guerra mondiale Mi sparavano da ovunque Perché E' effettivamente C'era 72 Minchia Adesso sta bene La scheda Non ho nemmeno l'acqua Tiè Va Oh Vedo Scesa di 20 gradi Comunque Sassu Solo lei È la 3090 87 gradi Ma 15% Cosa Di ventole Ma non puoi metterle sotto al 15 Sotto al 30 Sì ci vanno da sole Eh ho capito Ma mettile sempre a 50 A 50 non fanno neanche tanto rumore Poi non le sento No perché te ce l'hai in c- No in realtà C'ho il più vicino io che te In verità al pc No Minchia È scesa di 20 gradi Oh Processore 77 L'altra scheda 67 L'altra 40 Dai perché No hai rotto Tu hai rotto tutto Morto Vai a prendere il blocco Che hai rotto Cofa Allora Protection 3 Depth Rider Devo unire questi Costa 19 35 C'hai 19 livelli No Protection 3 Oh Better Armor C'è il migliore dell'altra Questo Che cosa avevo Loyalty 3 E Mending Mi conviene metterci loyalty O Qualcosa O Channel No L'altro Mi conviene metterci loyalty Non lo so Te che faresti loyalty O L'altro che ti fa volare Che non mi guardo Io ci avrei da regalarti Questi pantaloni Perché a me non servono Buttare il coso Oppure Brucio questi E via Tiè Quasi va bene E Dici Minchia Ma è scesa di 30 gradi Altro che Riptide O Quell'altro Riptide O Riptide O loyalty Riptide O loyalty Loyalty Te lo fa tornare indietro Riptide Ti fa volare Quindi io uno O l'altro Cioè se lo vuoi per volare Ci prendi Eh perché Finché mi sa che Boh Forse Ne andrò poi a cercare un altro Punto Direttamente C'è la 3090 Che è sbroccata Perché Se metto le ventole al 100 Non cambia niente Che con le ventole al 50 Cioè La dissipazione è perfetta Mi scende di 3 gradi letteralmente Forse 2 Ripari il buco Puoi riparare il buco? Non solo a me A 100 scende sotto Io il costo No A 100% Mi scende sotto i 30 gradi Solo se non faccio Tutte ste robe assieme Poi ti ricordo che C'ho due schede Che buttano fuori aria Ne che Eh ma c'è anche Il case Ma è il mio È morto Minecraft Come